Eccoci qua, siamo nel post matrimonio con Dennis Allora, com'è stato il matrimonio al convento? Allora, bellissima location, cibo ottimo Mangiato anche bene Sottolineo, menzione ad onore per il primo piatto, insomma, carciofi e guanciale Ti è piaciuto tanto? Casavo Molto bene, consigliato allora? Stra consigliato E divertimento a palla, molto top Quindi consigliato? Sì, consigliatissimo Tutto bellissimo, buonissimo Bellissimo, buonissimo Sì, anche tu? Anche il cibo, perfetto, tutto top Perfetto Mi sono estremamente divertito anche perché eravamo con tutti in gruppo, quindi Consigliato? Consigliatissimo Come è stato il matrimonio al convento? Al cento per cento Stupendo Bellissimo, bellissimo, fantastico Vi siete divertite? Tantissimo Quindi il piatto forte è stato al divertimento? Sì, tantissimo Come è stato un matrimonio al convento? Benissimo, benissimo, è andato tutto bene Non ho capito di niente, perciò sono qua sano Dai dire scemmia Succede, succede Succede Fota sezze Quindi consigliato? Sì Per me sì Per te sì L'uomo del monte ha detto sì Ok Consigliato? Consigliato Ti risposeresti? Sì Mille volte Ma con chi? Sempre con lei Fantastici, allora vai col bacio, vai col bacio Grazie a tutti